20 giorni di prognosi per le ferite visibili, tempo illimitato per quelle incise a fuoco vivo nell'anima. A Favaro Veneto, in via Altinia, l'altra sera, una donna di 33 anni è stata picchiata brutalmente dall'ex compagno e da altri tre energumeni di una nota famiglia, Sinti, che le hanno teso un agguato. Schiaffi e colpi con un bastone e una tavola spezzata. Un attacco vile che non può essere associato a generiche motivazioni di disagio relazionale. No, l'altra sera, come ogni qualvolta una donna è vittima di violenza, un uomo ha agito da delinquente, come tale sarà perseguito dai carabinieri di Favaro Veneto che stanno ricostruendo l'accaduto. Quando i militari sono arrivati, i quattro aggressori si erano già allontanati, ma sono già stati identificati. Nell'agguato è rimasto ferito lievemente anche l'attuale fidanzato della donna, che non è riuscito a fermare la furia dei quattro individui. Nelle prossime ore, si spera, possono essere già emessi i primi provvedimenti giudiziari. Proprio nella caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia in campo San Zaccaria, domani sarà inaugurata una sala dedicata all'audizione delle donne vittime di violenze. Proprio nella caserma del Comando Provinciale